Vandaferro è candidata a sindaco di Catanzaro con tutto il sostegno di Fratelli d'Italia che in questa città ha sempre detto la sua. Vandaferro è candidata con una lista solo di Fratelli d'Italia. Abbiamo scelto questa opzione di correre da soli. Vanda ha dato questa grande prova di serietà e di disponibilità perché crede e ama fortemente questa città e vuole fare il sindaco di questa città. Abbiamo alle spalle però un partito che è Fratelli d'Italia, che è un partito forte, coeso, una comunità umana e stasera si è potuto vedere, toccare con mano qui al teatro comunale di Catanzaro grazie anche alla presenza di Giorgia Meloni che ci ha incitato, ci ha ricordato quali sono i nostri valori, ci ha incitato a stare sempre uniti, a fare in modo che la nostra comunità e i nostri valori siano portati tra la gente e a cercare di far votare Fratelli d'Italia e anche le comunali. Grazie. Grazie.